Questa è una X870E Hero di ROG, questo è il nuovo 9800X 3D. Nuovo processore top di gamma, focalizzato sull'ambito del gaming, ma che va a migliorare anche le prestazioni in produttività rispetto a 7800X 3D, creando quindi una sinergia particolarmente interessante per content creator e gamer. Andiamo un pochettino però a vedere come si configura, come si rapporta con il resto dei processori, le prestazioni, ho fatto un confronto veramente gigantesco. I nuovi 9800X 3D, come fa capire il nome, condividono tante caratteristiche con la generazione attualmente in uso Ryzen 9000, quello che vanno a rinnovare più che altro l'argomento delle prestazioni in gioco grazie alla 3D V-Cache, andando a dare un nuovo reparto prestazionale a quello che è il contesto di questa tipologia di processori anche rispetto al 7800X 3D. Diciamo che per una volta questo processore sembra avere le carte in regola per portare un po' di aria fresca al mercato, a differenza delle precedenti uscite e soprattutto dare valore alle ore di test che investo ogni volta per fare appunto questi video. Oltretutto vi ricordo che un like, un commento e un'iscrizione sono sempre graditissimi per supportare specialmente queste serie del punto recensioni che solitamente sappiamo vanno un po' peggio, quindi i commenti mi aiutano tantissimo. A voi non costa niente e mi aiutate proprio tanto. Ad ogni modo, 9800X 3D, quali sono le novità? Allora, in realtà a livello di architettura questo processore condivide tutto quanto con Zen 5, quindi i nuovi Ryzen 9000, che alla fine non sono altro che una miglioria dell'architettura precedente di Zen 4, quindi di per sé non è che ci siano differenze abissali, non è cambiato molto tra le due versioni. La differenza principale però tra le generazioni in gioco in questo momento è la 3D V-Cache di seconda generazione. Diciamo che oltre alle migliorie tecniche che si possono essere state all'interno della 3D V-Cache stessa, più che altro la grande novità è nel suo posizionamento. Nella generazione 7000 e 5000, infatti la 3D V-Cache si andava a posizionare sopra di un CCD da 6 o da 8 core, andando quindi a incrementarne poi le prestazioni fornendo una cache istantanea a quel CCD in particolare. Invece nel 9800X 3D hanno cambiato la struttura e adesso la 3D V-Cache si trova nella parte inferiore. Che benefici ci dà questo? Allora, come livello di connettività, la 3D V-Cache dovrebbe avere delle latenze inferiori da questa posizione, che poi si rispecchiano in termini prestazionali per il processore. Ma soprattutto la parte interessante, ragazzi, è che la 3D V-Cache non si trova più a essere il companatico di un sandwich tra la zona del CCD, che è quella più energivora, quella con appunto più potenza da dissipare, e appunto il coperchietto del processore che svolge la funzione di dare appunto questa potenza termica al dissipatore per poi conferirla all'ambiente fuori dal PC. Quindi di per sé abbiamo un beneficio termico per appunto più che altro la zona del CCD, dei core effettivi, che vanno a essere più freschi stando a stretto contatto nuovamente con appunto la parte di heatsink del processore. Fondamentalmente, essendo che la 3D V-Cache è meno sensibile alle temperature, questo aiuta il processore a funzionare meglio. In termini di differenze con le generazioni precedenti, il 9800X3D parte con un clock più altro. Infatti il base clock raggiunge i 4.7 GHz contro i 4.2 del 7800X3D, e la frequenza massima invece di 5.2 GHz contro i 5 GHz della generazione precedente. Per il resto TDP, consumi e schede madri rimangono le stesse. Il nuovo 9800X3D è compatibile con tutti i socket AM5, in questo caso generazione 600 e 800. Per la 600 sarà necessario un aggiornamento del BIOS, ma in generale qualsiasi tipologia di scheda madre AMD abbiate e soprattutto qualsiasi processore sia in vostro possesso, vi consiglio di aggiornare alle ultime versioni dei BIOS con la versione di Agesa 1.2.0.2a perché migliora le prestazioni in relazione alle RAM. E questo è utile. Più che altro sul 9800X3D durante i miei test ho notato qualche miglioria a termini di un paio di punti percentuali, ma comunque una stabilità migliore per il contesto del gaming. Le nuove X870 sono già pronte alla guerra e sono anche corazzatissime. Diciamo che a me personalmente le X870E hanno emozionato di più delle Z890 perché personalmente sono un grande fan dei larghi input-output, delle funzionalità extra e cose del genere e le X870 le trovo molto più complete delle loro controparti Z890, oltre al fatto che effettivamente poi il supporto generazionale sarà molto più ampio su queste schede. Tuttavia, come vi dicevo prima, non è obbligatorio prendere una X870 o X870E per far funzionare il 9800X3D, potete anche prendere una B650 e aggiornare il BIOS, visto che la maggior parte delle schede madre a M5 di AMD dispongono della funzionalità di BIOS Flashback che permette di aggiornare anche in assenza di un processore il BIOS della scheda madre per poi renderlo compatibile con le nuove generazioni. Infine, ultimo punto, la frequenza consigliata delle RAM rimane la stessa, sempre a 6000 MHz, CL30 come sweet spot come esattamente per tutti gli altri processori, Ryzen e un po' anche per Intel, alla fine soltanto i 7200 MHz danno qualche beneficio, ma dipende più che altro dalla generazione. Ad ogni modo, state tranquilli anche con le RAM attualmente più economiche nella fascia DDR5. Prima di iniziare con i test, queste sono le test bench che ho adoperato per eseguire i miei test. Sto riutilizzando una parte dei test fatti per gli Intel Core Ultra 200S semplicemente perché dopo aver replicato anche quei test nuovamente con tutti gli aggiornamenti e suggerimenti dati dai brand e da Intel stessa, non ho notato particolari differenze prestazionali. Quindi per adesso, almeno con i test coincidenti che ho riutilizzato, andremo ad adoperare gli stessi risultati. Però vi dico, non ci sono differenze prestazionali, ho fatto dei retest a campione, sono esattamente uguali alla settimana scorsa. Alla fine è passato troppo poco tempo. Allora, partiamo con i test sintetici. 3DMark CPU ci posiziona il nostro 9800X3D poco sotto il 9950X, con un single core migliore del 14900K, ma un multi core decisamente inferiore. A cavallo tra il 7700X e il 14700K, ma comunque lontano da quest'ultimo, di quasi un 30-35%. Ad ogni modo, questo è un test sintetico, ci dà soltanto un intergenere. Cinebench, situazione abbastanza simile. Effettivamente troviamo un 9800X3D, che sta a cavallo tra il 7700X e il 14700K, con un multi core inferiore rispetto alla controparte di Intel, ma effettivamente parlando è comunque un test sintetico. Più che altro li faccio per un po' di contestualizzazione, per avere idea delle frequenze e cose così, ma di per sé non è che siano dei risultati che mi dicano qualcosa in un determinato contesto, se non quello di Cinebench o di 3DMark. Ok, adesso invece passiamo alla produttività con programmi reali applicativi di tutti i giorni. 7-Zip File Manager ci offre una prestazione del nostro 9800X3D migliorata rispetto al 7800X3D, che invece rimane in fondo alla classifica. Finalmente si scavalca il 7700X e si posiziona esattamente a metà tra il 265K e il 285K, che però mantiene una performance nettamente migliore, andando a unirsi al gruppo dei processori più in alto. Nuovamente situazione simile anche in Blender. Sicuramente c'è un miglioramento prestazionale valido da considerare rispetto al 7800X3D, questo è molto importante da vedere, ma più o meno siamo nuovamente un bel po' sotto al 14700K e sopra al 7700X, che invece prima osteggiava la classifica del 7800X3D. Decisamente interessante sotto questo punto di vista il miglioramento prestazionale, ma ancora niente di particolarmente eccitante. Anche Corona 10 Benchmark ci dà una situazione per quanto riguarda la produttività abbastanza simile. Il 14700K svetta in cima con una prestazione leggermente inferiore al 265K e da lontano raggiunge il 9800X3D, che scavalca nuovamente i due Ryzen 7 della generazione precedente, compreso l'X3D, ma migliora la performance appunto rispetto a quest'ultimo. Uguale anche per quanto riguarda Indigo Renderer, esattamente gli stessi posizionamenti, più o meno qua la classifica rimane uguale a grandi linee, perché sono tutti quanti i programmi che privilegino principalmente la presenza di più core, quindi è normale che il 14700K, avendo gli core di supporto, effettivamente si posizioni meglio, mentre gli 8 core puri rimangano sul fondo della classifica. Ma più che altro ci serve per capire che sì, c'è un miglioramento rispetto al 7800X3D, che posiziona questo processore anche in distacco rispetto al 7700X. Diciamo che non è un processore che compri con l'intento di fare produttività estrema, però di per sé non se la sta cavando benissimo, è comunque distaccato rispetto al grande gruppo della parte superiore di questi benchmark. Per quanto riguarda Premiere Pro c'è un recupero interessante, dove il gruppo dei vecchi 7i9, 13000 e 14000 si distacca nettamente, andando ad allinearsi poco sotto alla prestazione del 9950X, ma effettivamente il nostro 9800X3D riprende un pochino di terreno, niente di assurdo, rispetto al 265K, che fino ad adesso era stato qualche punto percentuale sopra, in maniera nettamente più staccata. Già un guadagno. Invece c'è un benchmark di produttività in particolare, che posiziona questo processore in maniera assurda, ovvero Photoshop, guardatelo, lì in cima, che svetta con il 9950X e il 7700X. Effettivamente Photoshop 2024 è un programma che privilegia grandemente AMD, e la potenza di calcolo dei 9000 sembra essere particolarmente privilegiata, perché effettivamente, come vedete, svettano anche sui vecchi 16 core, che non è che siano troppo lontani, ma comunque hanno un distacco sensibile rispetto alle nuove generazioni. Ad ogni modo, i primi 5 vi direi che sono tutte quante ottime esperienze. Il benchmark in questo caso valuta l'esperienza generale utente che potreste avere in un contesto di grafica, quindi potreste anche valutare più o meno queste prestazioni se utilizzate Illustrator o programmi di grafica simili. Più o meno le funzioni e i pesi sono uguali. Geekbench AI, programma che valuta le prestazioni in ambito di intelligenza artificiale a 360 gradi, posiziona il nostro 9800X3D nuovamente poco sotto al 9950X con una performance molto più alta rispetto alla maggior parte degli altri processori e comunque in quanti size precision superiore anche al 285K che invece svetta per quanto riguarda full precision e half precision. Per quanto riguarda il contesto di OpenVINO invece abbiamo un campione assoluto. Il 9800X3D ha deciso di svettare anche sopra il 9950X e questa cosa io non me la spiego. Onestamente io non so cosa abbia fatto Intel a OpenVINO però onestamente dà più vantaggi ad AMD che a Intel stessa. Complimenti perché comunque vuol dire che appunto non vogliano massacrare la propria concorrenza. Bravissimi ad ogni modo. 9800X3D in cima. Particolare. Sarei curioso di sapere se nel mondo reale questa cosa si riflette effettivamente però per quanto riguarda Geekbench AI fa dei calcoli appunto misti quindi di per sé è relativamente affidabile. È un po' come un PC Mark. Allora, nel periodo prelancio AMD ha fatto intendere che il 9800X3D dovrebbe avere delle differenze in gioco del circa 8% medio e nell'ambito della produttività del 15% medio in più rispetto a 7800X3D. Andiamo un pochettino a vedere se questa promessa elettorale sia stata mantenuta. Tolto OpenVINO che è un abominio onestamente, quello è un 122% ci tengo a dire, rispetto a 7800X3D effettivamente potete vedere come il 9800X3D mantenga un'ottima linea su Indigo Renderer, su Geekbench, su Blender, su 3DMark e su Cinebench. Non considerando quell'abominio di Geekbench AI OpenVINO possiamo notare come la prestazione media del 9800X3D sia del 18.2% medio migliore rispetto al 7800X3D. Quindi per adesso AMD ha detto una cosa e l'ha anzi sottovalutata. Siamo a un 3% medio in più in 9 programmi che comunque sono tra i più utilizzati. Per esempio Corona è uno dei renderer più utilizzati al mondo, mi dicevano alcuni. Molto interessante, visto che comunque la differenza percentuale minima sono appunto Corona e 7-Zip con un 8%, quindi di per sé la metà della promessa fatta da AMD, però la media generale è alta. Ora passiamo al gaming. Black Myth Wukong è un gioco a cui non interessa assolutamente quale processore tu monti e come potete vedere effettivamente la differenza prestazionale più ampia tra il 104 e il 116 FPS del 265K e tra il 13900K. Il 9800X3D si posiziona a una prestazione molto simile a quella del 7800X3D e del 7950X3D, manca proprio una manciata di FPS, diciamo che questo non è un gioco particolarmente interessante. Assassin's Creed Mirage invece è un titolo in cui il 9800X3D ci inizia a far vedere di che pasta sia fatto con 2 FPS in più rispetto a 7800X3D. Ok, non sono tanti, però vi voglio soltanto fare un'osservazione. Guardate la linea del 1% low. Potete vedere come effettivamente il 9800X3D si sia staccato di quei 9 FPS dal 7800X3D, andando a dominare quello che è quel contesto e questa è una cosa che in realtà rivedremo in diversi test durante questo video e questa è una cosa molto interessante perché questo era uno dei punti più dolenti di Ryzen, un 1% low generalmente più basso rispetto a Intel. In questo caso invece è un pochettino più alto. Cyberpunk 2077 è un altro gioco in cui il 9800X3D svetta, svetta duro e come potete vedere non svetta soltanto in termini di media degli FPS, 207 contro i 187 da dominio precedente del 7800X3D, ma va anche a inserire un nuovo record per quanto riguarda il 1% low, aggiungendo ben 24 FPS rispetto a 7800X3D, un'esperienza che effettivamente migliora decisamente quella che poi è la qualità di vita del gioco, perché effettivamente il 1% low ci dà un'idea generale di quella che è la qualità dell'esperienza di gioco, non solo della quantità di FPS. Quindi di per sé più alto questo valore rispetto alla media degli FPS meglio è. Banalmente se vedete il 7800X3D e il 7950X3D hanno lo stesso 1% low del 285K, nonostante stiano facendo più o meno una ventina di FPS in più. E questo è perché effettivamente Intel ha sempre avuto un predominio sul 1% low nel gaming, qualità dell'esperienza leggermente migliore. Invece qui Ryzen 9800X3D ha colmato anche questo divario. Age of Mythology Ritold è un titolo che allinea abbastanza vicino tutti i processori, ma volevo tanto farvi vedere come il 9800X3D si è riuscito a detronare l'appena stabilito record del 285 e 265K che invece svettavano fino a questi benchmark nella recensione precedente. Semplicemente è riuscito a posizionarsi ancora meglio. F1 2024 è un titolo che negli anni ha privilegiato sempre Intel in termini di prestazioni, semplicemente va a esprimere un numero maggiore di FPS. La cosa interessante è che il 9800X3D in questo caso non rimane troppo indietro, va a superare leggermente il 7800X3D. Non direi che è un qualcosa di cui vantarsi, però di per sé mantiene il posizionamento precedente. In generale questo è uno dei pochi benchmark in cui lo vedrete perdere comunque. Arrivati a questo punto potreste già capire che un pochettino questo processore effettivamente rappresenta una buona alternativa al 7800X3D. Tuttavia mi sono chiesto quanto effettivamente è meglio questo processore, ma soprattutto la promessa di questo 8% di AMD è veritiera? Allora che cosa ho fatto? Ho ripreso il 7800X3D e il 9800X3D e li ho messi sulla stessa test bench con una 4090 e sono andato a fare un test a test su 13 giochi. Ora vediamo un po' i risultati. Però prima, piccola premessa vitale, io avrei voluto veramente con tutto il cuore inserire il 285K in questo batch di benchmark extra con la 4090, però nel momento in cui io avvio Black Ops 6 e c'è una differenza di 100 FPS tra i due X3D e il 285K, mi scoraggia. Mi scoraggia perché ragazzi vorrebbe dire semplicemente infliggere un'altra pugnalata a Intel e dirgli sì, ancora non avete ottimizzato i vostri processori. Quindi nonostante avessi già perso una buona quantità di tempo a farli, ho deciso che per adesso aspettiamo e vediamo se Intel riesce a ottimizzare questi benediti processori e a darci almeno le prestazioni del 14900K. Sarò il primo a riportarvi i test in caso questo succeda. Per adesso confronto tra i due X3D. Portendo da Black Ops 6 1080p con la 4090 abbiamo un'esperienza abbastanza simile. L'unica cosa che potete vedere è che migliora leggermente di più il 1% low, cosa che poi rivedremo in tantissimi contesti. All Awake 2 è un gioco particolarmente GPU bound. In 1080p non si esprime più di tanto, abbiamo una differenza veramente minima tra i due processori. Niente da aggiungere, niente di particolare. Far Cry 6 lo stesso vede prevalere il 9800X3D con una ventina di FPS in più in 1080p. Fortnite è un gioco che ci permette di avvertire la differenza nel 1% low migliorato del 9800X3D. Come potete vedere l'incremento è nettamente maggiore rispetto a quello degli FPS medi, il che è molto positivo. Perché su titoli del genere è molto influente la qualità del 1% low. Perché meno starter avete, meglio giocate e più siete più competitivi. Gears 5 è un titolo che dà un buonissimo beneficio al 9800X3D. Con questi 263 FPS potete colmare un 240Hz molto comodamente. Anche nel 1% low decisamente c'è una buona stabilità. The Rift Breaker è un titolo che fa grande e largo uso dell'hypertrading, dei core e di tutto quanto. In questo caso abbiamo un miglioramento più che altro sempre sul 9800X3D. Migliora anche la situazione del 1% low. Sempre vince il nuovo arrivato. Hitman 3 è uno di quei titoli che spara veramente tantissimi FPS. Qua ne possiamo vedere 404 nel benchmark di Dubai. Diciamo che qui a livello di esperienza non è che vi cambi qualcosa, però diciamo che questo 9800X3D sfonda una porta che già era stata ampiamente distrutta dal 7800X3D, andando a stabilire un ulteriore predominio. Hogwarts Legacy nel contesto di Hogsmade, che è uno dei più pesanti per quanto riguarda l'argomento della CPU, ci dona un 7800X3D competitivo sulla parte del 99%, il 1% low. Però un'esperienza generale per quanto riguarda la media dell'FPS è leggermente più bassa, con 160 FPS per il nostro 9800X3D. Horizon Forbidden West, in questo caso nuovamente competitivo al 7800X3D per quanto riguarda la parte di 1% low, ma indietro con gli FPS non tantissimo comunque, ma ad ogni modo un'esperienza migliore sul 9800X3D. Shadow of the Tomb Raider è un altro di quei titoli che privilegia grandemente l'A3D V-Cache, in questo caso abbiamo un 9800X3D con 417 FPS. Questo titolo è praticamente un competitivo ormai, ci potete giocare veramente contro i vostri amici, se ci fosse un multiplayer potreste farlo. Star Wars Outlaw è un AAA recente, so che da molti non è stato apprezzato, a me un pochettino è piaciuto, comunque ad ogni modo in termini di FPS non è che abbia molto da dire. C'è una differenza di 5 FPS e con un 1% low abbastanza simile tra i due processori. Infine, tanto per includere un altro competitivo oltre a Fortnite e Black Ops 6, abbiamo Overwatch 2, dove stiamo già sparando 500 FPS. Speravo ci fosse una minima differenza, ma tolto un 1% low leggermente migliore, siamo nell'ordine dei 400 FPS ragazzi, cioè e 500 in media. Che volete? Cioè è Overwatch, ormai tipo gira sui tostapane. Quindi ci sta? Speravo ci fosse una differenza più ampia. Dopo aver analizzato questi 13 titoli possiamo guardare una media degli FPS. Possiamo vedere un 9800X3D posizionato a un 9.3% meglio rispetto alla generazione precedente. Quindi la promessa effettiva di AMD è stata mantenuta. Ci tengo a dire che per evitare di cadere nella trappola del cherry picking che fanno i brand, cioè quindi di utilizzare soltanto i loro titoli, ho anche scelto un po' di titoli che effettivamente fossero esterni ai loro benchmark. Quindi di per sé sono stato attento anche a non aiutare troppo il processore, selezionando giochi in cui il 7800X3D oggettivamente è stato particolarmente brillante, come Overwatch o Black Ops o Star Wars Outlaws. Volendo approfondire il 9% in gaming, queste sono le differenze percentuali tra i vari giochi. Svettano Hogwarts Legacy e Shadow of the Tomb Raider con un 18% sopra al 7800X3D. Seguono Fortnite, Gears e Hitman, che più o meno si posizionano tutti insieme a Horizon e a Far Cry sopra 10%. Diciamo che i titoli che hanno abbissato questo confronto più che altro sono Alan Wake, Star Wars Outlaws, Black Ops e Overwatch. Overwatch ha un distacco dell'1%, ma per miracolo, in realtà sarebbe tipo un 0.7%. Però di per sé, anche contrastando quello che potesse essere uno cherry picking da parte di AMD con titoli selezionati per far risaltare particolarmente il nuovo processore, abbiamo una situazione in cui questo 9800X3D si è difeso particolarmente bene. Consumi e temperature. Allora, il 9800X3D in realtà mantiene lo stesso TDP e lo stesso limite di consumi di 160W del 7800X3D. Quindi diciamo che in gioco non è che mi aspettassi una situazione troppo diversa dal fratello minore. Mantiene sempre un consumo inferiore ai 90W, anche nei giochi più impegnativi che appunto magari stessero richiedendo di gestire. 300 e passa FPS come questo Black Ops 6. Quindi di per sé non è un'esperienza assolutamente malvagia. L'efficienza energetica dei Ryzen 9000 e dei 7000X3D viene mantenuta attraverso il cambio generazionale. Quindi molto molto interessante. Considerato l'incremento prestazionale medio del 9%, anzi probabilmente qualcosina di più. Nonostante i consumi siano perfettamente in linea con quelli della generazione precedente con il 7800X3D, potete vedere che effettivamente le temperature sono migliorate nettamente. A parità di dissipatori, condizioni, scheda madre e tutto quanto, effettivamente il 9800X3D scala di quasi 15 gradi nelle migliori condizioni in assoluto. Andando a darci un rapporto praticamente uguale a quello che abbiamo visto tra il 7800X3D e il Intel Core Ultra 7 265K nella recensione dell'Intel Core Ultra 200S. In questo caso stiamo utilizzando un 360 mm per dissiparlo, ma non fa altro che dirci che effettivamente la possibilità è di utilizzare anche un 240 o un dissipatore ad aria senza nessun problema. Questi processori sono particolarmente freschi. Cambiano un pochettino le carte in gioco per quanto riguarda l'ambito della produttività. Andando a utilizzare il Cinebench, che è uno dei programmi più esigenti in termini di consumi, possiamo vedere un 9800X3D che si posiziona a circa 140-145 Watt di consumo. Diciamo che a grandi linee ci sta, nel senso per la produttività è ok, considerate che il 9950X in contesti simili raggiunge più o meno i 200 Watt, quindi di per sé è ok. Diciamo che questo processore non è spaziale per la produttività, non è che ha fatto un incremento assurdo, però al tempo stesso dà quella botta di vita in più che magari può aiutare le persone che vogliano un ottimo processore da gaming, migliore in assoluto, ad avere comunque supporto nell'ambito della produttività. Specialmente visti i risultati di Premiere e di Photoshop dove comunque si è posizionato particolarmente bene. Quindi nel contesto della content creation, della grafica, del video editing e di cose del genere, è un processore interessante. Siccome so che alcuni argomenti emergeranno nei commenti, voglio dare un paio di risposte in anticipo ad alcune cose, però voglio assolutamente sentire le vostre opinioni, ripetetele anche se necessario, non vi preoccupate. Ci tengo a sapere la vostra opinione, mi aiuta a crescere come canale. Ad ogni modo so che alcuni magari potrebbero essere delusi da questo solo 9% di incremento prestazionale, se per esempio guardiamo il divario gigantesco che si poneva invece tra il 5800X3D e il 7800X3D, processori che più o meno si passavano un 22-24% in 1080p in contesto simile utilizzando una 4090. Tuttavia, per quanto sia vero, io credo che sia da fare un po' di contestualizzazione. Il 5800X3D prima di tutto è basato su di un'altra piattaforma, ovvero AM4, che per quanto sia veramente eccellente come piattaforma è comunque indietro in termini di RAM, perché sfrutta le DDR4, che comunque sono un malus rispetto alle DDR5, che invece hanno un beneficio utile per il gaming. Diciamo quindi che il cambio di architettura radicale che c'è stato fra le due generazioni, più l'introduzione delle DDR5 e di altri aspetti, assolutamente ha aiutato il 7800X3D a diventare uno dei migliori upgrade mai creati da AMD e in generale nella storia dei processori. Un 20-24% in 1080p è veramente un risultato interessantissimo e questo processore vale tutti i soldi che costa. Tuttavia, se andiamo ad analizzare un pochettino più largamente il contesto, possiamo vedere che tra il 5800X e il 7700X il divario prestazionale sia più o meno simile a quello appena visto tra i due processori X3D. Questo per dirvi cosa? Semplicemente che appunto è più una questione di miglioramento dell'architettura, cambiamento delle RAM e di altre migliorie secondarie all'interno dei processori stessi, che effettivamente ha dato questo grosso beneficio rispetto alla generazione attuale. E questo si giustifica molto semplicemente andando a vedere le attuali generazioni. Se prendiamo il 7700X appena citato e il 9700X, possiamo vedere che il divario prestazionale è veramente imbarazzante. Stiamo parlando praticamente dello stesso processore due volte per quanto riguarda il contesto del gaming. Diciamo che è notevole quindi che siamo riusciti a spremere questo 9% medio, più che altro anche considerato il fatto che siamo veramente al limite degli FPS, ragazzi. Cioè sì, più di 9%, ma stiamo passando da 300 a 330 FPS, cioè da 300 a 327. Però dico, a livello di esperienza siamo ormai al limite da anni, cioè nel momento in cui faccio questi test effettivamente devo utilizzare la 4090 e i test in 1080p, perché è difficile percepire le differenze tra questi processori. Io faccio i test in questa risoluzione, in queste condizioni, più che altro per poter valutare anche la longevità del processore stesso. Cioè, se oggi li trovi allo stesso prezzo, ti prendi il 9800X3D perché ti dà un'esperienza migliore nel 1% low, ma soprattutto a lungo termine sentirà meno fatica in giochi che richiedano più potenza di calcolo rispetto alle nuove generazioni. Quindi di per sé ti durerà un po' di più. Ovviamente tutto quanto è un discorso da fare in correlazione al prezzo. Il 9800X3D arriverà sul mercato con un MSRP in dollari di 479 banane. Allora, per quanto riguarda questo prezzo diciamo che per adesso non si sa quanto sarà poi il riflesso nel mercato italiano e in quello europeo in generale. Però al momento attuale il 7800X3D abita alla fascia dei 450-500€, mentre prima si trovava intorno ai 380€. Chiaro che MD stia un pochettino proteggendo i suoi prodotti nuovi, andando a limitare probabilmente quella che è la produzione o la distribuzione di questo processore. Effettivamente però è quello che è, quindi di per sé dobbiamo guardare al mercato nelle sue condizioni attuali, per quanto sia spiacevole. Il 9800X3D offre a 360 gradi un'esperienza migliore rispetto allo stesso. Quindi se trovate allo stesso prezzo va assolutamente valutato il 9800X3D. Fino a un massimo anche del 10% in più. Secondo me arriverà sul mercato italiano intorno ai 500-520€, cosa che poi andrà un attimino a erodersi man mano che vanno avanti. Diciamo che poi dipende dal contesto. Se state facendo una build con l'obiettivo del 4K, del 9800X3D ve ne frega anche relativamente poco. Più che altro io osserverei bene la questione del 1% low perché la qualità dell'esperienza va a migliorare in generale in tutti gli ambiti. Quindi di per sé può essere un qualcosa di interessante da valutare. I consumi sono bassi e soprattutto potete alloccarlo anche su una B650 se aggiornata. Ci sta. Detto questo ragazzi io vi ho detto veramente tutto quello di cui sono a conoscenza sul 9800X3D. Fatemi sapere la vostra opinione, giù nei commenti se negativa, se positiva. Secondo me è un processore che di per sé porta un miglioramento al mercato, mantiene più o meno la stessa linea di prezzi, consumi eccellenti, migliora effettivamente prestazioni in certi giochi in maniera sensibile, fino al 18% l'abbiamo visto. Voglio sapere la vostra diciamo. Per me è un upgrade generazionale valido, a parità di generazione ovviamente, non è a livello di quelle precedenti perché non c'è il salto della grande generazione. Però di per sé ha fatto qualcosa a differenza di perdere prestazioni. Voi comunque siete stati su Mordentech. Noi ci vediamo al prossimo video. Salamusa.